Ciao ragazzi, sono Kalla e oggi siamo qui in questo nuovissimo video per vedere come ottenere gli starter di Yoto e di Unima su Pokémon Sole e Pokémon Luna Ma non perdiamoci in ghiacchia e iniziamo subidissimo Allora, per prima cosa bisognerà aver scannatizzato almeno 10 QR code con il vostro 2DS o 3DS Una volta fatto ciò vi verrà regalato il Pokeradar che sarà attivo una volta al giorno per un'ora e vi farà trovare questi Pokémon che vi elencherò Allora, il lunedì a Melemele abbiamo otto da il Adakala, Spiol, Aulaula, Swainub e per finire con Keldur, Apponi Il martedì Deino a Melemele, Xio, Adakala, Duosir, Aulaula, Togekis, Apponi Il mercoledì invece, Horsi a Melemele, Oneg, Adakala, Oselia, Aulaula, Livanni, Apponi Il giovedì, Klinca a Melemele, Venipede a Adakala, Stararia a Ulaula e Serperior a Apponi Il venerdì, Cicorita a Melemele, Belsprat a Adakala, Vigorot a Ulaula e Samurot a Apponi Il sabato, Litwitch a Melemele, Meril a Adakala, Awek a Ulaula e Mboa a Rapponi Per finire la domenica, Sin da qui la Melemele, Gotita da Kala, Raior na Ulaula e Electros a Apponi E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi per nuovi video interessantissimi sui Pokémon